Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix. Torniamo a parlare di calcio mercato, lo facciamo in maniera importante perché in questi giorni sono usciti tanti nomi in ottica in chiave Inter. Alcuni più realistici e più vicini, alcuni magari meno realistici, più lontani, separato anche di ritorno di fiamma e cioè di obiettivi sfumati quest'estate. Quello che però c'è da dire ed è molto importante è che l'Inter da un anno e mezzo, da due anni, sta seguendo una linea di mercato molto precisa e la seguirà anche a gennaio prossimo e a giugno. Ci saranno degli acquisti, ci saranno delle cessioni, facciamo chiarezza se avete domande scrivetelo nei commenti, ma prima guardate il video, buona visione. Quando si parla di mercato c'è una parola che la fa da padrona, soprattutto in situazioni nelle quali magari mancano i soldi. Non abbiamo le casse piene di soldi, non possiamo permetterci di spendere 20, 30, 40, 50 milioni, 60 milioni, pertanto si cercano di capire se ci sono delle occasioni. Però queste occasioni devono andare a risolvere quelle che sono le necessità. La parola chiave è necessità. In questo momento l'Inter ha delle necessità, alcune più urgenti, molto urgenti, alcune magari meno urgenti, ci si può lavorare, si può cominciare a ragionarci per il futuro, però sicuramente anticipare il problema è meglio che poi andare a risolverlo. La prima necessità dell'Inter, non al 100, al 200%, trovare un centrale difensivo, perché in questo momento la difesa ai lati è coperta con Bastoni e Pavard, e con Pavard l'Inter si è assicurata un giocatore di altissimo profilo per i prossimi anni, tanti anni, visto che è un ragazzo giovane. Al centro la difesa abbiamo ancora titolare Acerbi, che sta tornando quello dell'anno scorso. Dietro c'è De Vrij, che quest'anno sembrava in ripresa, ma sicuramente l'Inter l'anno prossimo non può pensare in alcun modo di ripartire con Acerbi e De Vrij. Non è fattibile e per questo motivo il nome che si sta facendo e sul quale veramente c'è intenzione di provare a fare il colpaccio è quello di Thiago Diallo. È un giocatore portoghese, difensore del Lille, che gioca nel campionato francese, un giocatore di livello, un giocatore di 23 anni. Quello che mi piace di Diallo, sono due le caratteristiche che mi piacciono, primo che è alto e grosso, perché io nel 2023 quando vedo difensori bassi ancora impazzisco, credo che comunque sia sul lungo periodo non riescano a mantenere un livello di rendimento costante, poi vengono sempre additati perché prendono gol, perché vengono sovrastati dagli attaccanti. Mi vengono in mente due nomi su tutti, il primo è Lisandro Martinez del Manchester United, il secondo è Koundeka, addirittura è finito a giocare terzino al Barcellona, giocatori pagati tantissimi soldi che hanno fatto bene ma non quanto ci si aspettava. Thiago Diallo è 1,90, è un giocatore fisico ma ha una particolarità che secondo me lo rende molto interessante, quella di essere anche un giocatore bravo e veloce, soprattutto che sa difendere in campo aperto. Per una squadra come l'Inter che gioca alta, tante volte, soprattutto contro le squadre piccole, è importante avere un difensore che sappia coprire il campo. Mi piacerebbe vedere la linea azzurro tantissimo, soprattutto perché prendere un giocatore di questo livello a zero sarebbe secondo me un grandissimo colpo e non voglio dirvi che pareggerebbe il fatto di aver perso Skriniar ma sicuramente ci toglierebbe un pochino di quella mare in bocca e ci garantirebbe comunque sia di dormire suoni tranquilli l'anno prossimo perché comunque Devrai è ancora lì, ma è dietro un ragazzo di 23 anni che può crescere, può migliorare e può essere un giocatore importante. Non è finita la parola necessità, vi ho detto che ce ne sono alcune più urgenti, alcune meno urgenti, perché in questo momento è un ragazzo che ancora sta rendendo a mille, e cioè la sostituzione di Henry Mkhitaryan, un giocatore che all'Inter ha trovato una nuova giovinezza. Sappiamo, guardate Giroud, che ha 37 anni e ancora fa gol e ancora importante nel campionato italiano. Mkhitaryan ha 34 anni, nello scacchiere di Inzaghi però, dietro Mkhitaryan quest'anno abbiamo messo una pezza con classe a cui è stato fatto il contratto di un anno, ma sicuramente l'anno prossimo Inzaghi deve avere un altro giocatore di valore, di importanza, di qualità. Si è parlato di Zielinski, giocatore di 22 anni in scadenza al Napoli. L'Inter proverà a fare un tentativo, ma nella mia testa, da quello che vedo, da quello che posso intuire e sapere, senza andarvi a dire fonti mica fonti, perché non mi interessa, mi fa ridere questa roba, lui vorrebbe rimanere a Napoli e sogna di ricevere un rinnovo di contratto come si merita. Ha rifiutato quest'estate l'Arabia Saudita, quindi sicuramente non sta inseguendo i soldi. Potrebbe essere un progetto sportivo importante quello dell'Inter, vedremo cosa farà. L'altro nome che è tornato in auge è quello di Samarzic. Ieri e l'altro ieri più di uno di voi mi ha scritto Ma cosa ne pensi? È fattibile? Non è fattibile? Io credo che lui sia un nome più lontano, ma non lo escludo al 100%, perché quest'estate sono stati fatti degli errori, più che il suo entourage da parte di suo padre. Il ragazzo non ha mai detto nulla di scorretto, anzi quando era lì fuori ha detto che voleva firmare, che avrebbe voluto firmare. Io credo che in cuor suo lui vorrebbe tantissimo tornare all'Inter. Se si farà seguire da una figura di riferimento importante e seria, la trattativa non credo di poterla escludere al 100%, al momento però non ci sono le condizioni. L'Inter comunque lì in mezzo proverà a fare il colpo, perché sa che Mkhitaryan ha bisogno di un sostituto. L'Inter ha due rose, lì è un tassello che in questo momento è mancante. Ovviamente si è parlato anche di Taremi, che potrebbe essere una grande occasione visto che è in scadenza giugno. Lui ha sempre fatto tanti gol in Portogallo, io quest'estate avevo espresso dei dubbi sul fatto che poi non tutti quelli che escono dal Portogallo riescono a ripetersi anche in altri campionati. Quest'anno è partito non fortissimo, credo che abbia 13-14 presenze e 3 gol se non sbaglio, totali. Ha la testa da un'altra parte, voleva andare via sicuramente quest'estate. Se il prezzo è interessante, allora può essere un giocatore da inserire in un contesto di squadra che ha già due titolari. E questa cosa ve l'avevo già detto quest'estate. Due titolari dell'Inter sono Lautaro Martinez e Turam. L'Inter sta cercando magari una terza figura da affiancare per completare il reparto. Sicuramente se Arnautovic finirà la stagione e dimostrerà di essere un giocatore valido, io credo che l'Inter proverà a trovare un giocatore tecnico, quindi un giocatore diverso da Taremi. Se Arnautovic invece non si dimostrerà valido, soprattutto fisicamente, allora Taremi può essere un'occasione a poco prezzo, ma di fianco a Taremi poi ci vuole un altro ragazzo, perché l'Inter deve avere un attacco che sia composto da giocatori che non abbiano tutti le stesse caratteristiche. Vi avevo detto però all'inizio del video che secondo me la cosa più importante è che l'Inter ha una linea, ha una strategia, e visto che in questo periodo, in questi ultimi giorni, hanno parlato sia Marotta che Ausilio, è venuto fuori una cosa importante, l'hanno confermata, che l'Inter si deve autosostentare. E questo vuol dire che ogni anno un grande sacrificio può finanziare il mercato. In relazione a ciò, senza fare sogni di gloria, visto che necessitiamo soldi, il ragionamento che andrebbe fatto è chi oggi può essere un giocatore sacrificabile per questa squadra? Tanti di voi, negli scorsi giorni, mi hanno detto Barella. Perché, oltre al discorso che aveva iniziato male il campionato, abbiamo detto un ragazzo che è frattesi, che ha 23 anni, che è giovane, sul quale si può lavorare. Io credo che il fatto che ci siano tanti nomi a centrocampo può essere un segnale che la cessione potrebbe arrivare lì. Io ritengo ancora oggi Barella essere il migliore, quando in forma, quando in serata, di tutto il centrocampo dell'Inter, e non soltanto il centrocampo dell'Inter, uno dei migliori centrocampisti in Europa, quando lui troverà la testa, perché il suo problema non è la condizione fisica, non è la forma, ma è la testa, diventerà uno dei top al mondo, senza dubbio. L'Inter può fare meno oggi di Barella? Dico nì, dico nì, perché poi quando lui gioca è insostituibile. Ovviamente avere dietro frattesi ci fa dormire su ogni tranquilli, io non sono così sicuro che l'anno prossimo l'Inter si possa permettere il lusso di avere Barella e frattesi, che sono complementari per lo stesso ruolo. Vedremo cosa succederà. Scrivete qua sotto, secondo voi, chi può essere il sacrificato, e cioè colui per il quale l'Inter potrebbe farne a meno, come è successo questa è stata esempio per Onana, e comunque sia, con i soldi ricavati, migliorare la squadra. Sono molto curioso di leggere i vostri commenti, noi ci vediamo al prossimo video, se non siete iscritti al mio canale e vi piace l'Inter, iscrivetevi, ciao ragazzi!